Preferirei più un confronto tra di voi che magari un intervento unico, poi in quale vogliamo di totale libertà e autonomia, di pensieri, di azioni e di opere, quindi ognuno per questo palco saremo in atteggiamenti democratici, civili e per me, a differenza di altre occasioni viste a questa campagna elettorale. Ho pensato a Dello Carfora, io non entro nel merito di tutto quello che ha detto Gerardo Uriero, sai che oggi si chiama città del benessere, che bel nome che gli hanno dato, una volta si chiamava ovulo interscambio merci, cosiddetto ovulo commerciale, che è la zona di Via Pascoli, quella di fronte all'aeroporto, tutte quelle enormi distanze di terra che è di fronte al Via Pascoli. Non voglio entrare nei progetti di Menarini, sono gli ex dirigenti del Bologna, quelli che poi hanno lasciato altri due, Bologna in un anno ha cambiato 4 o 5 presidenti, i Menarini sono stati quelli dell'anno scorso, non entro nel merito della grande idea del nuovo cimitero comunale, non entro in tutto quello che ha detto Gennaro, che volta sua ha studiato, chi fa il consigliere comunale di questi partiti, come quello della sinistra o di, se ci riuscisse magari Andrea Caputo del movimento di impegno sociale, manca chissà da quanti anni un consigliere comunale di quel partito, beh sarà più di una trentina d'anni, sarebbe un altro effetto democratico per questa città, e te lo auguro. Sono consiglieri che bisogna poi studiarsi le carte, trovare il vero nel luogo, cercare di capire dove c'è l'errore, confrontarsi, quindi da un buon presentatore passo solo la parola ai sindaci, sperando che ci sia anche un dibattito tra di voi, un confronto, come dice appunto il tema della Senato, confrontiamoci in piazza. E la domanda è sempre la stessa, sviluppo e occupazione, quale prospettiva hai tu, dottor Vincenzo Carfora, per questa città? Riferisci sempre l'apro tu, vai! Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Il tema è unico, quindi è inutile parlare di tantissime cose, però una piccola riflessione sull'intervento di Gennaro Laudiero ci vuole. sentendo Gennaro Laudiero mi chiedo perché non è candidato al sindaco, c'è un programma ottimo, delle idee stupende, però a un certo punto ci vuole anche qualcosa per poterle realizzare. Non basta sparare nel mucchio dei politici, ricordo che Gennaro Laudiero è più politico di noi, quindi noi lo ringraziamo per il suo bungolo che ci stimola e noi certamente ne faremo tesoro. Noi vogliamo portare veramente onore e dignità, ma non solo ai disoccupati, ma a tutti i cittadini di Casoria, perché in questi ultimi anni si è persa questa dignità, si è perso l'onore di questa città che, essendo anche la quarta della campagna, è ultima in tutto, è ultima nella raccolta differenziata, è ultima nei servizi che addiamo ai cittadini. Si parlava prima, Gennaro ricordava il collegamento di Arpino-Arpino-Casoria-Centro. Bene, io in Consiglio Provinciale ho fatto diverse interrogazioni sul problema, l'ultima risposta sapete qual è stata? Che la Regione deve tagliare il 20% del suo budget, quindi non potrà garantire questo ripristino della Asenza. Però c'è un però, il Comune in questa situazione non si è mai interessato. In tre anni non hanno mai presentato un progetto di Casoria in provincia da poter realizzare sul territorio e sapete quanto costerebbe questo collegamento Arpino-Casoria-Centro? Appena appena 100.000 euro l'anno. Penso che una città di 100.000 abitanti si può permettere ben alto. Il lavoro. Il lavoro certamente non è a portata di mano adesso. Promettere posti di lavoro è prendere in giro tutti, proprio tutti. Il lavoro deve venire fuori dallo sviluppo, lo sviluppo della nostra città, che può passare attraverso l'opulo, può passare attraverso… Io sinceramente delle aure bismesse non preferisco parlarne, perché poi vedremo in seguito. Ma certamente lo sviluppo deve arrivare dalla raccolta differenziata, dal riciclo colombedo dei rifiuti. Io ho detto esempio Vede Lago. Ognuno di voi, non vi sto qui a scocciare, può andare su internet, ormai siamo venuti informatizzati, può vedere che cosa fanno a Vede Lago? Riciclano tutto, il 99,9%. Quindi cosa significa? Significa non andare in discarica. Ad esempio c'è San Sebartiano a Vesuvio che fa l'88% di differenziata e va una volta a settimana in discarica. Il problema che qualcuno dice di aver risolto nel 2008, che ha tolto la spazzatura e ha fatto grandi feste dando beneficenze, tante onorificenze, tante cittadinanza, a chi ha tolto questa spazzatura, oggi vogliamo sapere perché non ci riesce. Quindi le bugie o le ha dette prima o le ha dette dopo. Il lavoro verrà fuori però da una sinergia, il lavoro verrà fuori dalla sinergia tra le istituzioni, tra le imprese e i sindacati. Solo così ci sarà uno sviluppo, non ci può essere un caos, una giungla, bisogna avere delle regole perché siamo in un paese democratico. Si è parlato dell'opolo e probabilmente abbiamo capito che si aprirà domani, probabilmente, i permessi c'è a tutti. Però vogliamo sapere anche un'altra cosa. Il più Europa, che fine ha fatto il più Europa? Le ultime notizie ci dicono che la regione ancora deve arrivare, stanno ancora aspettando i DOS, cioè il documento operativo strategico, stanno ancora aspettando i progetti di canterabilità, stanno ancora aspettando il partenariato con i privati. Bene, il più Europa ha una scadenza, arrivati in quella scadenza, si perderanno i soldi del più Europa. Vorremmo sapere a che punto sta, ma realmente, questa situazione del più Europa. Naturalmente bisogna favorire gli imprenditori che vogliono venire a lavorare su Casoria e dare possibilità di lavoro ai casodiani. In che modo? Avvolendo tanta burocrazia, snellendo questa burocrazia, favorendoli fiscalmente. Questo è l'unico passaggio per poter dare dei lavoratori, perché il Comune certamente non è un centro per l'impiego, non ha possibilità di assumere persone al Comune che voi sapete benissimo, sono i partiti di stabilità, sono le leggi regionali, le leggi nazionali. È inutile dire io vengo, vi darò il posto a tutti quanti, faremo i discorsi della qualunque. quindi noi non vogliamo dare lavoro e lavoricchio, non vogliamo dare questi posti di lavoro, ad esempio nel cimitero di Casoria, tramite un subappalto per tre mesi, quattro ore, oppure ai vari Conad, ai vari centri commerciali. Noi vogliamo dare un lavoro stabile, stabile per tutti, non per pochi. Io faccio un invito a tutti i disoccupati per il giorno 12. Il giorno 12 verrà la segretaria nazionale della UIL, Anna Rea. Io invito tutti quanti a partecipare, a intervenire a quella riunione. Grazie.